UFC Vega 75 consegnato agli archivi, questo video siccome uscirà prima rispetto al solito come video di recap della card, in questo caso del main event, in realtà principalmente è un video sostanzialmente no spoiler, quindi per questo il titolo o la miniatura che non svelano che cosa è successo, anche se sicuramente molti di voi avranno visto il match live e il motivo appunto per cui il video esce presto. Speravamo ovviamente tutti di essere qui a commentare un altro tipo di prestazione, un altro tipo di match, un altro tipo di risultato e invece è stato un match in cui partendo dal risultato di per sé Jared Cannonier batte Marvin Vettori per decisione unanime e già il risultato di per sé è ovviamente un qualcosa di negativo, assolutamente negativo, ancora più negativo è il modo in cui è arrivato questo risultato, un dominio di Cannonier. Marvin è partito benissimo, in uno dei migliori modi in cui ci si potesse aspettare, anche un po' sorpresa da un certo punto di vista, nel senso che ha stordito subito Cannonier in piedi, Cannonier ha poi svelato nell'intervista dell'ottagono di non sapere neanche con che colpo, con che cosa era stato colpito precisamente. Marvin appunto era partito bene, aveva poi cercato di pressare, Cannonier poi è riuscito a prenderlo con un destro, anche lì era un po' scosso, però comunque il primo round era di Marvin, però è stato l'unico round di Marvin sostanzialmente. Il resto è stato un dominio veramente di Cannonier che ha stabilito non soltanto il record personale di colpi significativi messi a segno, ma Cannonier ha stabilito il nuovo record UFC di colpi significativi messi a segno nella divisione pesi medi, in tutta la storia della middleweight division. Cannonier, devastante, ha veramente sul classato e superato Marvin sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista del wrestling, l'ha portato a terra in più occasioni, è riuscito a liberarsi quando Marvin stava provando a prendergli la schiena ad un certo punto, colpi pesancè. Marvin non è stato finalizzato in questo match solo perché ha il mento che ha, però questo ovviamente va sottolineato continuando così, è un discorso che abbiamo già fatto per i vari Holloway, nei Dias eccetera eccetera, continuando così quel mento ovviamente non potrà durare per sempre, perché ha preso veramente tanti colpi pesanti, secondo round completamente drammatico, terzo round. In realtà dal secondo round in poi è stato quasi tutto drammatico, tranne qualche fiammata quella di Marvin, però che appunto non aveva continuità, durava una manciata di secondi e appunto dal secondo round poi è diventato uno psicodramma sostanzialmente per i fan di Marvin. Canonia che poi fra l'altro ha mantenuto l'energia, ha mantenuto il cardio con il passare dei round, nonostante nel secondo round e anche per certi versi nel terzo abbia fatto di tutto per provare a finalizzare il match, rischiando anche di svuotare il serbatoio, non è successo, anche perché poi comunque Marvin ovviamente dopo tutti quei colpi presi non era più lucido, non era più presente nel match e Canonia ha potuto gestire grandissima pressione messa da Canonia a Marvin, andando non soltanto quindi a schiacciarlo contro la gabbia in tante occasioni con qualcosa che l'angolo di Marvin gli ha ripetuto più volte di non lasciarsi schiacciare, ma andando anche così ovviamente a togliere la pressione di Marvin che con la sua pressione mettendoci volume di colpi avrebbe potuto fare ipoteticamente molto bene o sicuramente meglio e invece appunto Canonia ci ha messo la pressione, Canonia ci ha messo la precisione, ci ha messo un grand fight IQ, ci ha messo anche dei takedown, del ground and pound, veramente il match e ad un certo punto nel secondo round non poteva anche essere stoppato probabilmente, non è stato fermato solo perché Marvin ha il mento che ha e inspiegabilmente non è andato giù, ma questa performance va rivista e da rivedere sotto tanti punti di vista sono stati evidenziati ulteriormente dei limiti che già avevamo visto, poi inspiegabile soprattutto dopo come è andato il secondo round che non si sia portato il match a terra, non si sia provato a portare il match a terra ovviamente in maniera intelligente non rischiando di andare magari incontro anche a colpi di incontro per tentare il takedown, però cerca di portare il match a terra e provare a fare qualcosa va detto che poi Canonia appunto anche in fase di wrestling, di difesa da takedown, di takedown e anche comunque a terra ha dimostrato di saper gestire benissimo la situazione però ovviamente se Marvin si fosse ritrovato in top position e magari anche in più di un'occasione, qualora fosse riuscito ovviamente a mettere a segno di takedown magari sarebbe potuto cambiare qualcosa, ovviamente con i se e con i ma la storia non si fa, questa è una brutta brutta sconfitta cioè la sconfitta con Whittaker era stata netta ed era comunque contro Whittaker senza nulla togliere a Canonia Canonia è ovviamente un fighter di altissimo livello, nonostante l'età che avanza ha dimostrato comunque di essere ancora veramente al top della forma e adesso ha due vittorie consecutive contro Strickland e contro Marvin, questa ancora più devastante della precedente, ancora più netta soprattutto della precedente perché non c'è mai stata storia, però appunto rispetto alla sconfitta con Whittaker, cioè questa è stata la sconfitta più pesante, più netta, più coccente e più devastante anche dal punto di vista dei danni subiti nella carriera di Marvin molto di più rispetto a quella contro Whittaker e adesso appunto bisogna comunque innanzitutto lavorare sui limiti che sono stati evidenziati ancora una volta essere più calcolatori anche all'interno dell'ottagono per quanto riguarda gli aggiustamenti ragionare molto di più appunto anche sulla questione game plan e game plan appunto da aggiustare in corsa più ovviamente appunto aggiustamenti tecnici, ad esempio una cosa che Marvin ha continuato a fare che fra l'altro all'angolo gli dicevano di non fare, continuava ad andare verso la sua sinistra quindi verso il destro di Cannonier, l'ha incassato tante di quelle volte che non si può neanche contare veramente non ci sono da sottolineare dati positivi in questo match, in questa prestazione cioè è anche per dovere di cronaca ho sottolineato e ho raccontato che il match era iniziato con un ottimo comunque un buon primo round di Marvin perché comunque è giusto spiegare come si è evoluto il match però di fatto è anche inutile andarlo a sottolineare da un certo punto di vista perché poi appunto a maggior ragione quasi verrebbe da dire se poi il match è andato così non conta nulla, quel primo round letteralmente appunto non è contato nulla tanto di cappello a Cannonier, una prestazione allucinante, veramente allucinante soprattutto contando che non soltanto lui ha 39 anni e l'anno prossimo una via 40 ma che si passano 10 anni, si passano 9 anni con Marvin Cannonier che con il passare dei round non soltanto non è andato a essere in debito d'ossigeno o comunque non era particolarmente stanco ma non lo è stato nonostante tutti i colpi che ha tirato per cercare di finalizzare Marvin e anche lì ovviamente, anche questo è giusto sottolinearlo per dovere di cronaca ovviamente Marvin è un guerriero, ovviamente Marvin ha un mento storico un mento migliore in UFC probabilmente, potrebbe essere anche il mento migliore nella storia della UFC senza un bel dubbio, però non è quello per cui un fighter vuole o deve essere noto e soprattutto non quando prendi tutti questi colpi perché tante volte si è andati vicino alla finalizzazione in questo match, in un paio di occasioni poteva forse anche arrivare soprattutto al secondo round non è arrivata e sul momento ovviamente la fan viene da dire meno male perché pensi che ci sia sempre ovviamente il round dopo o comunque le sequenze dopo e la possibilità magari di rimontare e di recuperare però poi al lato piatico in realtà se poi il match va così e non succede niente e comunque in generale dal punto di vista della salute del fighter anche per il futuro non è una buona cosa perché davvero ragazzi il mento lo puoi testare, lo puoi testare, lo puoi testare e poi però ad un certo punto ovviamente rischia di sparire e senza magari neanche avvisarti ora vediamo magari il caso di Holloway che anche lui continua a prendere colpi da tantissimo tempo da tantissimi anni e da una vita in UFC e il mento continua a reggere però l'aveva detto anche in un paio di occasioni Volkanovski ma in realtà è una cosa che si sa, che è ben nota ad una certa poi non te lo trovi più il mento o comunque non è più quello lì oltre al fatto ovviamente ragazzi che questo qui andando poi nel merito delle conseguenze di questa sconfitta è un qualcosa di disastroso dal punto di vista dei ranking dal punto di vista della posizione e della situazione in cui si trovano Marvin nella middleweight division perché adesso, l'abbiamo detto, negli ultimi, adesso non ricordo esattamente quanti anni forse negli ultimi sette anni ma non vorrei dire una cosa sbagliata perché adesso non ricordo esattamente aveva perso soltanto contro Adesania e contro Whittaker e adesso ha perso anche contro Cannonier ovviamente questo ti ributta un po' indietro soprattutto in una divisione in cui comunque tu già avevi poche opzioni nell'immediato di una title shot perché Adesania che è il campione ti ha già battuto due volte poi ti ha appunto già battuto anche Whittaker adesso non si sa neanche quando di preciso ci sarà la prossima title shot dovrebbe essere a Sydney, a UFC 293 il 10 settembre ma non è ancora confermato bisogna vedere un po' comunque diciamo in quella finestra temporale lì e adesso Marvin che formalmente magari a livello di posizioni scenderà soltanto di una chi lo sa potrebbe scendere alla quarta al posto di Cannonier essere impiazzato o potrebbe scendere magari addirittura alla terza eventualmente perché Adesania forse avrebbe tolto dai ranking o comunque avrebbe abbassato visto che ha cambiato di visione ma indipendentemente da questo è oggettivamente una bruttissima sconfitta questa è un'analisi un po' diciamo iniziale preliminare di quello che è successo nel main event di US Vega 75 stasera alle 21 circa faremo una live su Twitch per commentare insieme tutto quanto venite in massa appunto per commentare mi interessa sapere anche la vostra opinione lasciatelo ovviamente nei commenti nel primo commento e anche nella descrizione del video troverete il link del canale di Twitch vi ringraziamo per il supporto come al solito ovviamente serata no per Marvin Vettori per le MMA italiane e appunto diteci la vostra ai commenti e ci vediamo alla prossima grazie a tutti